Io dico che ho messo a comune lente di ingrandimento su questi casi, dando un enorme sviluppo appunto dal 1945-2015 in modo da occupare tutte le sale dei tre piani di Palazzo Fava. Sono 67 artisti con più di un centinaio di opere e direi che non c'è neanche un centimetro quadrato né di parete e neppure di pavimento che sia rimasto libero.